Nel 2023 le donne seguite dal Centro Antiviolenza Lanara di Prato sono state 484, 34 in più rispetto all'anno precedente. Una su quattro ha rischiato la vita. A rivolgersi alle operatrici sono soprattutto le italiane, il 64%, nella fascia di età compresa fra i 40 e i 50 anni, che denunciano entri 5 anni dall'inizio del maltrattamento. Sono invece 500 i figli che hanno intrapreso un percorso insieme alle loro madri. È un numero che però ci deve rassicurare, perché sono donne che si mettono in sicurezza, con coraggio, con forza, con determinazione, rimettendo insieme i pezzi della loro storia. Questo è importante, lo dico sempre, il confronto con professioniste è fondamentale, perché dobbiamo capire la propria realtà, la propria storia. Le donne lo fanno attraverso il racconto, con professioniste che riescono ad accompagnarle non soltanto nella ricostruzione di sé, ma anche in una rete che questo territorio fornisce. Richieste d'aiuto arrivano anche alla Polizia Municipale, che nel corso del 2023 ha raccolto circa 180 denunce, prevalentemente da parte di straniere. Nel 2022 erano 149. Spesso l'intervento della Polizia Municipale avviene difficilmente con denunce querele, recepite direttamente, ma su delega del magistrato. I dati sono stati presentati alla vigilia dell'8 marzo, insieme al cartellone di tutte le iniziative organizzate, spettacoli, mostre fotografiche e convegni. Tra gli altri argomenti affrontati è anche quello del lavoro. È la prima volta che viene approvato la Regione Toscana un allegato e anche un emendamento ad una legge sugli incentivi alle imprese che prevede agevolazioni e sensibilizzazione per la certificazione di parità.